Lei è più breve del cosiddetto, può mettere il karaoke e lo sanno altri cosiddetti. Che è venuto a fare qui Giulio Cercari? Che è venuto a fare qui Giulio Cercari? Giulio Cercari? E' uno scherzo. Questo è Bruto e Cassio che sono proprio che mi fanno dare una cortelata in schiena. Non è che ci sta a provare pure con Poppea, sta a fare il furbetto dentro. Vabbè ve lo dico, sono venuto a parlare di tutte le cose che avemmo inventato noi romani, pure da queste parti, qua a Liguria, lascia stare, abbiamo inventato un sacco di cose. Avemmo inventato il Festival di Sanremo. Chi è che ride? Io! Che storia! Il Festival di Sanremo, all'inizio si chiamava il Festival di San Romolo e Remo. Poi i tuoi organizzatori hanno litigato, ci è scappato il morto, sai come va? E poi abbiamo inventato le strade. Chiedemi. 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 Perché? No, scusa, vado a sbagliare per me. Ero io. Ho uno sbaglio, lo ammetto, va bene. Chiedemi. Quale strade avete inventato? Giulio Cercari e Imperatore Massimo. Quale strade avete inventato Giulio Cercari e Imperatore Massimo? Ti devi farà? È latino, è latino. Grazie.